Accolto dal TAR di Bari ricorso presentato dal candidato salentino Antonio Trevisi che prenderà il seggio nel Consiglio regionale della Puglia di Viviana Guarini, entrambi del Movimento 5 Stelle. Nelle prossime ore invece in prefettura Bari comincerà il conteggio delle schede elettorali di due sezioni del Tarantino per verificare i voti presi dal candidato di noi a sinistra Cosimo Borraccino, escluso alle elezioni di maggio in favore del foggiano Pinolo Nigro. Il TAR ha fissato la nuova udienza per discutere questo caso il 18 dicembre. In una nota la consigliera del Movimento 5 Stelle Guarini che sarà sostituita da Trevisi ha commentato la sentenza. Sono serena perché so che in ogni caso il seggio è rimasto al Movimento 5 Stelle e questa per me e per noi è la cosa più importante, questo proprio in virtù del nostro principio fondante uno vale uno. Resterò accanto ad Antonio per i primi tempi affinché possa portare avanti tutte le battaglie da me iniziate e tornerò a fare la cittadina tra i cittadini. Sicura che lì dentro resteranno dei validi guerrieri e legislatori che farebbero sentire anche la mia voce. Infine sono stati respinti i ricorsi elettorali presentati da Francesca Ferri e Maurizio Friolo di Forza Italia, Giovanni Epifani del Partito Democratico, Nicola la terza di oltre confitto. Alcuni dei ricorsi erano contro le elezioni di due consiglieri regionali della BAT, eletti legittimamente con la nuova legge elettorale, con il metodo dei resti che a giugno premiò la provincia più piccola della Puglia con sette consiglieri regionali. Entro dieci giorni saranno note le motivazioni delle sentenze.